Dunque, immaginatevi di essere a Fargo il 7 novembre del 40 con la neve fuori nel North Dakota, in un posto sperduto nel nord degli Stati Uniti, fuori il gelo, in questa sala da ballo, che Fargo non avrà avuto una sala da ballo grande, una sala da ballo per qualche centinaio di persone, probabilmente i neri da una parte, i bianchi da un'altra, i pochi neri che ci saranno stati nel North Dakota, ce ne saranno stati veramente pochissimi e comunque forse non ce n'erano affatto, i bianchi dall'altro, perché la separazione razziale voleva che non si mescolassero, sul palco una band che suona, la gente che balla, è arrivato il jazz a Fargo, tutti si divertono e nessuno che dice, capisca o che lo dica, come Ellington avrebbe potuto fare, che stanno ballando al suono della parola di Dio e che il brano che stanno danzando è Calima, ci racconta della profondità della cultura degli afroamericani, afroamericani che però non possono rivelare ciò che sono veramente, perché sono oppressi nella loro società, oppressi nella loro cultura, considerati dei burloni, degli uomini di spettacolo, gente che scrive musica semplice apparentemente per far ballare le persone e invece qui si tocca una verità profonda della storia. Questa era l'ultima delle nostre lezioni di jazz, io vi ringrazio e spero di vedervi l'anno prossimo. Grazie.